Le videonotizie di distribuzione moderna Un'enoteca con oltre 180 etichette e un reparto gastronomia caratterizzato da una vasta offerta di piatti pronti L'esperienza d'acquisto è resa più fluida grazie alle casse veloci e al servizio di presto spesa disponibile su app Un passo molto importante ovviamente a un anno e mezzo dalla prima apertura in Cola di Riezzo del nostro formato la S che è un po' il nostro formato di vicinato, quello che noi definiamo un po' urbano Strategia commerciale di espansione, quindi Lazio-Roma è una città molto importante quindi pensiamo Roma abbiamo solamente due punti vendita questo è il secondo, è un super store che è al Prenestino quindi sicuramente grande attenzione per un mercato che per il nostro gruppo ha un grandissimo potenziale La zona è una zona centrale di grande riferimento quindi nel format abbiamo voluto includere un po' tutte le nostre esperienze e le nostre soprattutto eccellenze quindi siamo presenti con un format ovviamente di un mercato da circa 250 metri quadri oltre 3.000 referenze tra fresche e drogheria ma in particolare abbiamo la nostra gastronomia con delle grandissime eccellenze di sempre ma abbiamo anche dato un occhio al localismo, uno per tutti, la corallina quindi questo salame tipico ovviamente romano quindi un nostro format ma ovviamente anche una logica di locale cercare di valorizzare anche un po' quelli che sono i produttori locali anche nella parte di vini abbiamo cercato di portare circa 40 etichette del Lazio in Lazio ne abbiamo 4 e quindi questo qua rappresenta direi uno step che è un punto d'arrivo ma non è un punto di partenza i numeri come un po' anticipato prima è un formato ovviamente l'AS quindi non ha tutto l'assortimento però ha una buonissima customer experience nella customer experience in questo formato c'è anche il bar atlanti una bellissima terrazza quindi noi punteremo molto anche nella parte hospitality quindi cercheremo di intercettare tutte quelle che sono le occasioni di consumo per i nostri clienti potenziali e non al fine di creare la massima esperienza vengo qui, bevo il caffè, posso mangiare, posso fare la spesa, posso anche prenotare quindi punteremo molto anche vista la località del centro sulla prenotazione un passo molto importante per intercettare tutte quelle che sono le esigenze di consumo direi che il format è molto rappresentativo di tutte quelle che sono le nostre eccellenze e pensiamo con questo formato di rappresentarle abbastanza bene la private level è sempre importante ovviamente l'abbiamo ben rappresentata quindi abbiamo tutti i nostri marchi, abbiamo il mainstream quindi il marchio è se lunga abbiamo la parte di Elisenda, abbiamo la parte di equilibrio, abbiamo la parte dei prodotti top quindi direi che è ben rappresentato ma è equilibrato ovviamente anche con i prodotti delle marche noi dobbiamo dare scelta, il consumatore deve scegliere, noi abbiamo sia la nostra marca ma ovviamente utilizziamo anche le marche industriali e commerciali